Non parla di arbitri. Io parlo solo di calcio, la società ha parlato di arbitri. Dopo Udinese Torino, il tecnico del Torino Walter Mazzarri inizia così a commentare il pari di Udine e il Torino ha dominato in largo e lungo su un campo di patate, che ci ha penalizzato perché spesso non ci ha consentito di fare l'ultimo passaggio. Altrimenti avremmo fatto 3 o 4 gol. Mazzarri allarga il discorso avremmo meritato dai 3 ai 4 punti in più in questo inizio di campionato nel quale abbiamo sempre fatto delle prestazioni ottime, tranne nel primo tempo con l'Inter. Siamo stati sfortunati. Mazzarri sottolinea come anche oggi abbiamo avuto quasi l'80% di possesso palla fuori casa dominando. E fatemi dire che mi dispiace per Iago.Zazza Belotti, le ultime considerazioni sono sul feeling della coppia Belotti-Zazza. In questa squadra si vede il gioco con i ragazzi con i quali stiamo lavorando dall'inizio. Ma è normale che quando un calciatore pur bravo arriva il giorno prima che inizia il campionato è difficile integrarlo e si vedono delle mancanze. . Bisogna, ad esempio, sfruttare meglio il coordinamento all'interno dell'area, e oliare certi meccanismi. Ci lavoreremo su.